Secondo noi è irricevibile, è una miseria che darebbe la banca, dopo il danno restituirebbero il 10%, queste banche stanno perdendo clienti, sono lì che ormai hanno perso completamente la fiducia dei risparmiatori, se vogliono guadagnare un minimo di fiducia devono risarcire. E allora cosa si può fare Claudio? Il primo passo per tutti è l'invio di una lettera di diffida alla banca, che è stata predisposta ovviamente dai nostri legali, con la quale andiamo a interrompere i termini di prescrizione e chiediamo tutta la documentazione che ci serve per esaminare caso per caso. Ci sono già delle casistiche che si stanno delineando, le baciate, le firme false e ci sono dei documenti in cui le firme non sono quelle dei diretti interessati. Quindi io risparmiatore mi trovo una mia firma che non ho mai fatto? Sembrerebbe, bisognerà approfondire la questione. Oppure di nuovo la forzatura dei profili di rischio, quindi ci sono persone che fino al giorno prima di aver sottoscritto le azioni avevano magari la quinta elementare o la terza media e nel giro di una notte improvvisamente hanno avuto una laurea.